L'ite per gelosia a Caltanissetta, coppia di cinquantenni finisce al pronto soccorso. Quarantenne muore dopo un malore in strada, vana la corsa verso l'ospedale Sant'Elia. Covid, 259 positivi negli ultimi sette giorni nel Nisseno, tutti in isolamento domiciliare. Picnic ottocentesco a Villa Cordova, massiccia partecipazione di pubblico. Volley serie B2 femminile, esordio vittorioso dell'Alba Verde Caltanissetta contro la Region Reggio Calabria. Bentrovati, dopo un'accesa lite per gelosia a Caltanissetta, una coppia di cinquantenni è finita al pronto soccorso. Dalla passione alla violenza il passo è stato breve e un uomo e una donna di Caltanissetta, anziché concludere in bellezza la serata di domenica, sono stati costretti a ricorrere alle cure dei medici dell'ospedale Sant'Elia, dopo essersele date di santa ragione. Una lite nel corso del loro tetto a tetto è infatti degenerata in uno scambio di colpi proibiti, probabilmente per un eccesso di gelosia. La donna ha riportato contusioni ed escoriazioni al viso, tumefatto in alcuni punti, mentre l'uomo era ferito in maniera seria al labbro inferiore, che risultava mutilato. Adesso sarà la polizia a ricostruire tutti i passaggi dell'accaduto, da capire se ci saranno conseguenze dal punto di vista penale per i due focosi amanti. Un quarantenne muore dopo un malore in strada, vana la corsa verso l'ospedale. Assume i contorni del giallo la morte di un sancataldese di 43 anni, che nella serata di sabato era stato trovato privo di sensi in via Trappeti a San Cataldo. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare, nonostante il tempestivo arrivo dell'ambulanza del 118 e la disperata corsa in ospedale. Il 43enne è deceduto durante il tragitto e i medici dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, all'arrivo dell'ambulanza, hanno solo potuto prendere atto della morte del paziente. Sulla vicenda sta però indagando la squadra mobile. Gli investigatori hanno anche sentito i familiari, viste le circostanze dell'accaduto, e dagli accertamenti sempre emergere che la vittima facesse uso di stupefacenti. Probabile che come atto dovuto per approfondire le indagini e stabilire con precisione la causa del decesso venga disposta l'autopsia. Manifestazione per la riapertura della piscina comunale. Partecipazione dei cittadini al di sotto delle aspettative. Si è svolta sabato pomeriggio, dinnanzi alla piscina comunale, una manifestazione pacifica organizzata da un cittadino nisseno per cercare di ottenere risposte sulla riapertura della piscina che non pochi disagi sta causando da oltre tre anni dalla sua chiusura. Una data sembra certa, data dalla ditta che ha vinto la gara d'appalto, è confermata dal sindaco Gambino, ossia aprile 2023, dove si ci augura che la piscina possa riaprire e portare i nisseni a non spostarsi per usufruire di un bene collettivo. Oltre all'organizzatore della manifestazione Armando Turturigi e ad una cinquantina di persone presenti, vi erano il sindaco Roberto Gambino, il vice sindaco Grazia Gianmusso e l'assessore allo sport Fabio Caracausi, dove hanno spiegato le dinamiche del rallentamento dei lavori. Presenti anche i consiglieri Michele Doro e Annalisa Petitto. Sono contento per com'è andata, anche se non eravamo tantissimi, eravamo una cinquantina. Però è stato un incontro molto proficuo, c'è stata data una data per la riapertura, cioè aprile 2023, il sindaco ha dato la sua parola. Ho ricevuto tanti messaggi di supporto prima di questa manifestazione, centinaia, però non li ho visti qui. Io penso che sia una questione di mancanza di cultura sulle manifestazioni. E' importante che cominciamo a imparare, perché le marce, le manifestazioni, perché solo così possiamo far capire a chi sta in alto la situazione integrata e il disagio che viviamo. Non basta solo scrivere. Quindi vorrei farvi questo appello. I cittadini devono partecipare a quella che è l'attività politica, non potendo partecipare direttamente in consiglio comunale, però è giusto che facciano sentire la propria voce su alcune tematiche che spesso vengono un po' sottovalutate, come in questo caso la piscina, che è da tre anni e mezzo che siamo ancora in attesa. Questa manifestazione, anche se non partecipata, perché purtroppo Caltanissette è una città che ama parlare sempre dietro, scrivere sui social, non ne parliamo, però quando c'è da partecipare poi purtroppo è assedito. Covid 259 positivi negli ultimi sette giorni nel Nisseno, tutti in isolamento domiciliare. Covid sono 259, i pazienti positivi al SARS-CoV-2 nella provincia Nissena, i dati riguardano l'ultima settimana e sono quelli comunicati dal consueto bollettino dell'ASP. I pazienti al momento, tutti in isolamento domiciliare, sono 105 di Caltanissetta, 62 di Gela, 24 di San Cataldo, 12 di Niscemi, 9 di Mussomeli, 8 di Santa Caterina Villarmosa, 6 di Serra di Falco, 6 di Acquaviva Platani, 4 di Buonpensiere, 4 di Butera, 4 di Riesi, 4 di Sommatino, 3 di Milena, 3 di Vallelunga Pratameno, 2 di Resuttano, 2 di Delia, 1 di Montedoro. Sono invece 9 i pazienti ricoverati in degenza ordinaria, 5 i dimessi. I guariti salgono quindi a quota 228. E mentre in Sicilia sono 1.221 i nuovi casi segnalati nelle ultime 24 ore, a livello nazionale, secondo i dati comunicati dal Ministero della Salute, sono 34.444 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle 24 ore, in calo rispetto al dato dei 43.716 registrati il giorno precedente. Stabile quindi sopra quota il 20% il tasso di positività nell'intero paese. Notevole presenza di pubblico al picnic ottocentesco di domenica a Villa Cordova. hanno indossato nuovamente i loro costumi storici, riempito i cestini da picnic con tovaglie ricamate, cuscini, ma anche stoviglie, teiere, tazzine di porcellana con decorazioni floreali, dorate e argentate. Si sono immersi per un giorno intero nell'atmosfera del risorgimento. Anche quest'anno infatti la Villa Cordova ha ospitato il picnic ottocentesco. Siamo alla quarta edizione ma siamo contentissimi di come il programma è andato. Stamattina abbiamo fatto un piccolo corteo accompagnati da alcune note della banda musicale. Poi abbiamo aperto i cancelli della Villa Filippo Cordova per il picnic vero e proprio. Abbiamo iniziato con un concertino fatto sempre dal corpo bandistico Giuseppe Verdi e poi abbiamo fatto delle danze del periodo della Regenza e quindi delle danze storiche molto belle. Poi abbiamo pranzato sull'erba, abbiamo trovato l'erba a ottobre nella villa comunale e quindi abbiamo pranzato, abbiamo steso le tovaglie, abbiamo pranzato, quindi il picnic vero e proprio. Poi abbiamo fatto dei giochi dell'Ottocento, abbiamo fatto i giochi di quel periodo, dei giochi da campo, abbiamo giocato anche a croquet. Poi abbiamo fatto il salotto musicale, quindi con due artisti che ci hanno suonato dei pezzi molto romantici. Ci siamo presi il tè alle 5, puntualissimi, su pellettili e tazze vindas del periodo. Abbiamo continuato a danzare con danze vittoriane. È stata una giornata stupenda, devo dire molto romantica, bella, bella, bella. Una rievocazione storica che ha visto il coinvolgimento di partecipanti in costume provenienti non solo da Caltanissetta ma anche da Catania, Palermo e Siracusa. A distanza di qualche settimana dal ballo del Barone Lanzirotti, l'Associazione Arte e Tendenza propone alla città dunque un altro evento, abbracciato anche dall'amministrazione comunale. Questo picnic ottocentesco l'abbiamo dedicato al risorgimento e quindi ogni anno abbiamo sempre un personaggio e quest'anno è stato dedicato a Giuseppe Mazzini per i suoi 150 anni della morte. E quindi questa rievocazione storica, come vedete, non solo è per la città prima di tutto, ma sono venuti tanti turisti stamattina e ancora continuano di pomeriggio. Vedo che c'è tanta gente che sta venendo a vedere queste bellezze, queste curiosità. Stiamo riportando proprio alla luce l'Ottocento, come si viveva, come si stava bene, quando si facevano questi picnic che venivano fatti allora nelle ville nobiliari naturalmente, i padroni di casa invitavano gli amici così per passare una giornata particolare con vari intermezzi, tra balli, giochi, danze. È quello che stiamo riproponendo alla città di Caltanissetta che finalmente sta dando proprio lustro a questo picnic. Libertà, donne e diritti. Un incontro sul tema alla Casa delle Culture e del Volontariato di Via Xiboli. In Iran e nei paesi di religione islamica tagliarsi capelli è segno di lutto. Per questo, in memoria di Masa, le donne iraniane hanno iniziato a protestare tagliandosi i capelli e bruciano gli hijab nelle strade contro la rigida applicazione del governo della legge sul velo. Proprio quel velo, che messo non correttamente, ha provocato la morte della giovane Masa. Per questo, e per parlare dei diritti delle donne, alla Casa delle Culture e del Volontariato si è tenuto il convegno Libertà, Donne e Diritti, Iran in Chiama Europa, organizzato dal Movi e dall'Auser di Caltanissetta. Al suo interno sono intervenuti Esther Vitale, former member Comitato Economico e Sociale Europeo e portavoce dell'Associazione Onde Donne in Movimento, e il magistrato Giovanni Battista Tona, dove hanno parlato e ascoltato insieme con il pubblico presente alcune testimonianze di donne iraniane. Non è possibile, in modo particolare anche noi, dove viviamo adesso l'indegrazione, noi abbiamo 12 etnie a Caltanissetta e ci sono presenti di queste ragazze, di questa realtà dell'Iran. E mi sembra più che giusto, rispettoso, che noi facciamo una battaglia insieme a loro, anche se c'è una distanza geografica con loro, ma è giusto che loro sappiano che noi combattiamo e siamo vicino a loro. Quindi da questo momento nascerà un osservatorio permanente per questa battaglia e quindi invito chiunque vuole avvicinarsi, la casa è aperta a tutti. Metti in moto il dono, iniziativa nazionale anche a Caltanissetta per sostenere l'importanza della donazione di sangue. Con le pettorine di colore giallo e la scritta sulle spalle Metti in moto il dono hanno acceso i motori dei loro veicoli a due ruote per partecipare all'iniziativa nazionale della FIDAS che ha fatto tappa anche nel capoluogo Nisseno. Numerosi infatti i cittadini che si sono dati appuntamenti in piazza Falcone Borsellino per parlare di donazione del sangue e allo stesso tempo stare insieme e visitare una parte della Sicilia a bordo delle proprie vespe e moto. Dopo la partenza dal viale della regione hanno effettuato un itinerario cittadino passando anche per il centro storico Nisseno prima di lasciare la città. L'evento ha coinvolto anche le realtà di Agrigento e Gela. I due gruppi infatti si sono incontrati con quello proveniente da Caltanissetta a Villaggio Mosè per poi spostarsi tutti insieme costeggiando la Valle dei Templi fino a San Leone. A Sabucina fedeli e devoti hanno partecipato attivamente alla processione della Madonna del Rosario. Con i suoi colori teni ma allo stesso tempo eleganti il simulacro della Madonna del Rosario custodito all'interno della chiesa di Sabucina è stato portato in processione domenica 9 ottobre. Su di un fercolo a baldacchino decorato con dei drappi azzurri e dorati tonalità riprese anche nelle pettorine indossate dai devoti che hanno spinto il fercolo lungo tutto il percorso tradizionale. Una processione che ritorna a Sabucina dopo la pausa causata dalla pandemia e che ha richiamato molti fedeli che hanno accompagnato il simulacro nel tragitto scandito dalle preghiere, canti e dal suono delle note suonate dalla banda musicale. Dopo il triduo di preparazione a partire dal 6 ottobre i festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario a Sabucina organizzati dalla parrocchia di Santa Barbara e dal comitato pro festeggiamenti a Sabucina hanno regalato alla comunità parrocchiale non solo, anche dei momenti di intrattenimento con la Sagra della Salsiccia e l'esibizione dell'artista Carlo Canebbe Antonello Cirrone. I festeggiamenti si sono poi conclusi con la processione, fuochi d'artificio e la Santa Messa di domenica. L'avvocato Michele Riggi è stato eletto delegato del distretto nisseno all'organismo congressuale forense. L'elezione è avvenuta a Lecce nel corso del congresso nazionale. Complessivamente sono 53 i nuovi componenti dell'assemblea dell'organismo. Mototerapia Day a Caltanissetta momenti di gioia e spensieratezza. Sabato 8 ottobre a partire dalle ore 10 lungo Corso Umberto si è tenuto il Mototerapia Day un evento che ha visto coinvolti i ragazzi di Raggi di Isole in una giornata dove insieme ai professionisti di Motor Life hanno trascorso momenti di gioia e spensieratezza in sella alla moto. L'evento è stato promosso dalla cooperativa Etnos in collaborazione con il comune di Caltanissetta Motor Life Impresa sociale con i bambini e Fondazione Exodus di Don Antonio Mazzi. È un'emozione incredibile guardare questi sorrisi questi sguardi dare la possibilità di movimento a persone in carrozzina e vivere l'ebbrezza della velocità è qualcosa che veramente si riflette negli occhi di ciascuno dei nostri ragazzi è un'esperienza che non credevo potesse emozionarmi così tanto e io mi auguro che sia soltanto l'inizio di un'avventura che nei prossimi nel prossimo tempo insomma nei prossimi giorni possa portare anche delle importanti novità. Oggi finalmente risaliamo in moto qui a Caltanissetta cercheremo di portare la mototerapia a più persone possibili persone che hanno una disabilità persone comuni che semplicemente vogliono provare l'ebbrezza di andare in moto. La bambina dai capelli finti presentato il nuovo libro di Anna Mosca Pilato. Una sala gremita quella che domenica scorsa ha partecipato alla presentazione del nuovo libro di Anna Mosca Pilato nella sala conferenza della Banca Sicana in via Crispi il nuovo romanzo La bambina dai capelli finti della casettrice Algra ha come protagonista Erina o Caterina un mistero tiene sul filo il lettore che riguarda la vita di questa donna. Innanzitutto diciamo che la linea narrativa non è una sola ci sono due linee narrative o meglio due piani temporali sui quali si sviluppa la vicenda il primo riguarda gli anni 50 del 900 e tutti gli anni 50 e poi la fine degli anni 80 sempre del 900 ovviamente la protagonista però è una sola da prima bambina che trascorre la sua infanzia in una piccola provincia siciliana poi adulta che ritorna dopo 30 anni sui luoghi della sua infanzia da cui è dovuta fuggire precipitosamente non si sa per quale misteriosa ragione verrà svelato questo solo negli ultimi capitoli e si scoprirà leggendo il libro il perché dei capelli finti in realtà si tratta di un soprannome che viene affibbiato a questa bambina per un determinato motivo ma che poi la seguirà per tutta la sua infanzia e forse anche per tutta la vita il mio romanzo nasce come una storia che si potrebbe definire rientrare nello schema del romanzo di formazione tutto ciò che accade a una bambina le cose che impara spesso a sue spese però a un certo punto prende un corridoio diverso una strada diversa e si avvia a diventare un thriller un thriller che via via sarà sempre più pieno di colpi di scena e la prosa si fa più asciutta nervosa e corre verso un finale davvero imprevedibile la presentazione è stata introdotta dai saluti del presidente della banca sicana Giuseppe Di Forti dal presidente dell'Ions Club di Caltanissetta Salvatore Pilato e del sindaco Roberto Gambino ad introdurre e moderare la presentazione la giornalista Fiorella Falci e come relatrice è intervenuta la storica Rosanna Zaffuto Rovello infine hanno dato vita alle pagine del romanzo con le loro voci grazie a Ogello Michele Diana e Nadia Leonti la pagina sportiva volley serie B2 femminile Alba Verde esordio vittorioso alla Pala Cannizzaro esordio vittorioso nella nuova edizione del campionato di serie B2 di volley femminile per l'Alba Verde Caltanissetta che si è imposta 3 a 0 al Pala Cannizzaro sulla Region Reggio Calabria parziale dei set 25 a 12 25 a 12 e 25 a 15 un'affermazione netta per Noemi Spene e compagne dinanzi al pubblico amico le Nissene guidate da Francesca Scollo si sono rese protagoniste di una gara esemplare sin dal primo set conquistando i primi tre punti della stagione in evidenza Valeria Lamattina Nicoletta De Luca e Gabriella Milazzo martedì l'Alba Verde tornerà in palestra per preparare la non facile trasferta contro l'Alus Mascaluccia a Ragalna i commenti a fine partita di Jennifer D'Antoni dell'allenatrice Nissena Scollo e del tecnico Calabro Pellegrino sulla pagina Facebook dell'Alba Verde il risultato mio è il risultato della squadra perché abbiamo lavorato bene in questo mese è un buon inizio di campionato ci fa sperare bene per il futuro è stata una partita giocata non è stata verso unico nel terzo set siamo lasciati un po' andare però può succedere dopo due set combattuti il terzo set ci sta però l'importante è rialzarsi io vorrei per prima cosa ringraziare il pubblico perché devo dire che erano veramente numerose le persone quindi grazie a tutti per averci sostenuto non era facile nel senso che sempre la prima partita non è facile ora diciamo che abbiamo ancora più consapevolezza di quello che siamo di quello che valiamo perché quando giochiamo come noi sappiamo abbiamo visto il risultato sapevo che venire qua a Caltanissette era difficile questa partita conoscevo la squadra conosco le ragazze conosco Francesca Scollo l'allenatrice quindi sapevo le difficoltà però naturalmente affrontare una squadra di prima fascia con un organico molto ridotto abbiamo avuto diciamo i nostri problemi quindi però molto merito al Caltanissette niente da dire in bocca al lupo i risultati Zafferana 2 Vallei 1 Alus Planet Saracena Ericina Ardelscomiso Region Reggio Calabria 0 Calcio è stata una domenica amara per San Cataldese e Nissa entrambe sconfitte la San Cataldese perde la terza partita di fila in casa stavolta passa alla Cireale con un gol di scarto siglato da Limonelli al diciassettesimo del secondo tempo ora i Verde Amaranto sono penultimi in classifica dopo l'esaltante avvio di stagione in Coppa Italia contro il Catania l'ennesima domenica amara al Valentino Mazzola che il tecnico Matteo Vullo commenta così sulla pagina Facebook del club nell'unica vera palla-gol della Cireale noi abbiamo subito abbiamo subito il gol che poi ha determinato la sconfitta tra l'altro da una palla nostra sbagliata in uscita purtroppo il rammarico è quello lì perché la palla era nostra recuperata abbiamo sbagliato l'uscita da dietro sono stati bravi loro a rimetterla subito sul secondo pallo dove in quel momento ci mancava un altro centrale e il terzino stretto e poi Carbonaro fa un gran gol e va così purtroppo in questo momento i risultati del campionato di serie D Girone I Catania Castrovillari 4 a 0 Trapani Cittanova 1 a 1 Licata Locri 1 a 1 Santa Maria Canicattì 2 a 1 Ragusa Sant'Agata 1 a 0 Real Aversa La Mezzia 0 a 2 San Luca Paternò 1 a 1 San Cataldese A Cireale 0 a 1 Vibbonese Mariglianese 1 a 0 La classifica Catania La Mezzia 15 Real Aversa e Vibbonese 10 Ragusa 8 Locri 7 Sant'Agata e Canicattì 6 Trapani 5 Paternò Cittanova Santa Maria e Castrovillari 4 San Luca Mariglianese San Cataldese 3 Licata 2 Terza sconfitta stagionale per la Nissa l'ennesima fuori dalle Murami che ad opera della Profavara una battuta dal resto che fa scivolare i biancoscudati in zona play-out dopo 5 giornate di campionato Favaresi in vantaggio dopo 18 minuti con De Luca nel finale del primo tempo 2 gol al 36esimo la Nissa pareggia i conti con Ortiz che trasforma un calcio di rigore l'1 a 1 dura una manciata di minuti al 44esimo il secondo gol dei padroni di casa ancora con De Luca autore di una doppietta il primo tempo si chiude 2 a 1 per la Profavara che al 35esimo della ripresa segna il Tris con Dembele la partita finisce lì con l'esultanza dei Favaresi e la profonda delusione dei Nisseni i risultati del campionato di eccellenza Girone A Cus Palermo Don Carlo 0 a 4 Castellammare Leonfortese 6 a 2 Parmonval Casteldaccia 0 a 4 Acragas Oratorio Marineo 3 a 0 Enna Sciacca 3 a 1 Gela Resuttana 1 a 1 Profavara Nissa 3 a 1 Mazzarese Mazzara 2 a 2 la classifica Acragas Ed Enna 13 punti Sciacca 12 Don Carlo 11 Casteldaccia 10 Mazzarese Profavara 9 Mazzara 8 Cus Palermo e Castellammare 6 Nisse Parmonval 4 Gela E Oratorio Marineo 2 Resuttana Leonfortese 1 Intanto in una nota la San Cataldese fa sapere che Matteo Vullo non è più l'allenatore della prima squadra La guida tecnica è stata affidata a Pietro Infantino ex Giarre Messina e a Cireale Infantino sarà in panchina già dalla prossima partita della San Cataldese a Castrovillari Kart una gara per le vie di Caltanissetta Buon successo di pubblico del quinto trofeo Italia del campionato regionale di Kart nel circuito cittadino di Caltanissetta che ricordiamo ha attraversato le vie salvo d'acquisto dove sono partiti via Aldo Moro via Palmiro Togliatti via Don Minzoni 80 piloti si sono dati in battaglia suddivisi per 8 categorie 125 new entry 125 tag 100 amatoriale 125 over 30 125 top driver 125 over 50 125 inter provinciale e 125 day dove ogni categoria ha svolto 15 giri dopo le classiche verifiche sportive e due prove ufficiali di allenamento le gare sono entrate in scena con le prove cronometrate e nel pomeriggio sono iniziate le gare per poi concludersi davanti alle istituzioni cittadine con le premiazioni per i primi tre arrivati di ogni categoria un grande successo di pubblico e di partecipazione sono stati 70 i piloti provenienti da tutta la regione Sicilia e in più in più da Reggio Calabria dall'Italia e da Roma quindi un trofeo nazionale che si sviluppa per la prima volta a Caltanessetta bel circuito bel tracciato sicuramente ci sarà un futuro non indifferente oggi qui siamo di casa è veramente bellissimo il circuito poi sono venute tantissime persone e siamo qui con il nostro team Seruso Motorsport e vediamo di fare bene ecco è stata una gara abbastanza impegnativa il circuito era un poco sconnesso però dopo ci siamo adattati e abbiamo ottenuto un ottimo risultato è tutto vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità grazie per l'attenzione appuntamento rinnovato alle prossime edizioni amici trebi meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che vedrà un graduale miglioramento del tempo sull'Italia si allontana infatti la perturbazione che ha attraversato il nostro paese lascia comunque dietro di sé un po' di variabilità e si prepara intanto un nuovo sistema nuvoloso che raggiungerà le regioni meridionali nelle giornate di giovedì e venerdì per quanto riguarda però appunto questo martedì la nuvolestà come vedete si allontana dall'Italia si avvicina a qualche nuovo annuvolamento da ovest ma per il momento situazione che resta discreta insomma più tranquilla con anche ampie schiarite precipitazioni ancora qualche locale piovasco sarà possibile sulla Puglia centro-meridionale sulle isole maggiori sull'Appennino ma nel complesso ripeto sarà una giornata che ci regalerà anche delle belle aperture quindi in definitiva martedì discreto diciamo da nord a sud qualche nuvoletta si farà ancora vedere ma senza grandi conseguenze qualche residuo piovasco nelle zone interne delle isole maggiori sulla Puglia centro-meridionale sull'Appennino centrale e come temperature e valori in aumento si starà benino con le massime che in molte zone tornano a toccare anche i 25 gradi ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi consultate l'app gratuita di Trebi Meteo servizi di pubblica utilità farmacie di turno Caltanissetta servizio diurno Vizzini Viale Trieste servizio notturno Pantano Via Dominzoni Vizzini